piano scuola estate 2021 it's my play il piano scuola estate di cui vi parliamo è quello che si è svolto a legnano all'istituto comprensivo statale via dei salici plessi dante alighieri mazzini e rodari questa esperienza ha riportato ai propri banchi di scuola circa 200 alunni delle classi primarie e secondarie dell'istituto comprensivo via dei salici dal 21 giugno al 31 luglio e dal primo al 10 settembre 2021 con un'ampia varietà di proposte educative 18 classi attivate sette classi di robotica educativa quattro classi di teatro due classi di danza hip hop tre classi di sperimentazione sensoriale sviluppo della creatività utilizzando la tecnica del reciclo destinato ai bambini della scuola primaria due classi di espressività per una rielaborazione ed espressione del proprio mondo interiore attraverso la fotografia e il caviar d'age destinato ai ragazzi della scuola secondaria di primo livello la realizzazione del progetto ha impegnato nove educatori specializzati per la gestione dell'attività educativa due educatori in supporto ai bambini con necessità di sostegno tre ausiliarie con massione di gestione triage vigilanza controllo e igienizzazione spazi un coordinatore che si è occupato di stesura del calendario dei corsi gestione iscrizioni gestione della comunicazione con le famiglie e la committenza allestimento spazi coordinamento attività e supervisione generale obiettivo del ministero per lo stanziamento dei fondi che la cooperativa strip es ha rielaborato e reinterpretato attraverso la realizzazione di un catalogo it's my play realizzato con la competenza di progettazione e reazione dell'ufficio progettazione per l'attuazione del piano scuola estate è stato quello di consentire a studenti e studentesse di riconquistare la loro dimensione sociale e rafforzare l'apprendimento attraverso attività educative incentrate su arte sport digitale percorsi sulla legalità sostenibilità e tutela dell'ambiente i bambini della scuola primaria hanno potuto riscoprire lo stupore di creare con le proprie mani qualcosa di tangibile il vedere la materia mutare davanti ai loro occhi e creare con essa oggetti e piccole opere d'arte riuscire ad esprimere le proprie emozioni non tramite le parole ma utilizzando il corpo la mimica e la recitazione di interpretare qualcosa che altro da se stessi ha fatto riemergere le capacità di mettersi nei panni dell'altro con la robotica educativa hanno sviluppato la capacità di dare istruzioni chiare e sintetiche per ottenere un risultato concreto l'importanza della comunicazione come mezzo per ottenere conseguenze costruttive con i ragazzi della scuola secondaria di primo livello i risultati più sorprendenti sono stati ottenuti sul piano emotivo i ragazzi hanno affrontato i corsi con molta serietà e impegno hanno condiviso le proprie emozioni con i compagni con gli educatori sono riusciti ad instaurare un rapporto di fiducia tale da aprirsi ed esprimere le loro paure e le loro speranze per il futuro trovare un luogo in cui essere se stessi senza scontrarsi con il giudizio un luogo di scambio di vissuti sperimentare di nuovo l'empatia le connessioni tra individui e non tra mezzi elettronici questo il piano scuola estate una forma di creatività pedagogica ed educativa questi sono alcuni dei messaggi raccolti attraverso il questionario di gradimento compilato dai genitori dei bambini iscritti al piano scuola estate 2021 it's my play un po' di